veramente grosso sì non è un clickbait guardate quanto è grande questo lego pesa veramente tanto contiene ben due scatole piene di pezzi per fortuna che i sacchetti hanno i numeri perché mi è capitato di montarne uno che non ne aveva e i pezzi erano superiori ai 3000 quindi non una roba da niente questo invece ne contiene ben più di 4000 e lo monteremo domani sera venerdì 20 maggio in live su twitch il link sta nella descrizione di questo video se volete venire a vedere me e terror un mio amico in cui monteremo entrambi un lego staremo in chiamata su discord potrete vedere entrambe le webcam